Dopo dieci anni a Folgaria è tornata oggi la parata della Brava Part. Erano dieci anni che sull'Alpe Cimbra si sentiva la mancanza della grande parata della Brava Part, la festa di fine estate. Ed è subito boom di spettatori, diecimila quelli assiepati ad ammirare gli 800 figuranti, 35 carri allestiti, 100 bambini e tutta la tradizione e l'identità cimbre a stilare, rappresentate dai mestieri e dai costumi storici destiani. Simbolico il carro delle autorità con il sindaco, il parroco, il medico condotto, il maresciallo e la presidente della comunità di valle. Premio per l'originalità al carro di Freud a rappresentare la varone, maestoso quello dei vinaroi de Mezmont, quello del Fenn di Costa, dei Masteleri di Carbonare, dei Scalpellini di Serrada e i tanti carri trainati da maestosi cavalli norici. Un successo di tutta la comunità, afferma orgogliosa la direttrice dell'Alpe Cimbra, Daniela Vecchiato, merito degli sforzi di tante associazioni, proloco, cori e bande di Folgaria e la varone e a quelle arrivate da tutto il Trentino, dall'Alto Adige e dall'Austria. Appuntamento dunque alla 2020. Grazie.